Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Paola e Chiara Jezzi, il ritorno di un duo di successo. Le sorelle Paola e Chiara Jezzi, celebre duo musicale degli anni 2000, saranno ospiti oggi a Verissimo. Dopo anni di silenzio, le due cantanti tornano insieme sul palco per raccontare la loro storia, fatta di successi, tensioni e separazioni. Il duo che aveva conquistato il pubblico europeo con la hit Vamos a bailar nel 2000 si era sciolto nel 2013 a causa di divergenze e problemi economici legati alla discografia indipendente. Oggi Paola e Chiara sono di nuovo unite e pronte a parlare apertamente del loro passato. Dopo il ritorno sul palco di Sanremo nel 2023, a dieci anni dalla separazione, le due artiste non si sono più fermate. Paola è giudice a X Factor, mentre Chiara si dedica alla recitazione. Insieme lavorano a nuovi progetti musicali e a un tour in Italia. Il successo del duo, che ha raggiunto l'apice, con brani come festival e amici come prima, è stato seguito dalla decisione improvvisa di separarsi nel 2013. Le motivazioni di questa scelta sono state spesso enigmatiche, con Paola che ha parlato di tensioni e nervosismo, e Chiara che ha sottolineato le difficoltà legate all'indipendenza discografica. Oggi Paola e Chiara guardano al passato con una prospettiva diversa e ridono di certi episodi assurdi della loro vita, come il curioso caso di un fidanzato condiviso nel 2007. Dopo aver superato le divergenze, le due artiste sono tornate più forti di prima e continuano a regalare emozioni al loro pubblico. Il ritorno di Paola e Chiara non è solo un'operazione nostalgia, ma un segno di rinascita e di rinnovata passione per la musica. Le tue ordelle sono pronte a riprendere il loro mino insieme.